In questo momento particolare direi che queste iniziative di collaborazione sul territorio per lo sviluppo dell'innovazione sono strategiche. Attualmente i mercati si stanno muovendo in modo veloce, le competizioni a livello internazionale sono sempre più dinamiche e le aziende locali hanno bisogno di acquisire sicuramente una maggiore dinamica nel portare al proprio interno competenze e tecnologie. Il centro di Competence Center di Bologna rappresenta per noi un'opportunità per realizzare dei progetti di filiera insieme all'Accademia, insieme ai laboratori dell'alta tecnologia e per unire l'innovazione delle grandi industrie all'evoluzione del territorio e delle PMI.